In questa zona lì erano le case normali dell'abitante di Rebla. Si vede lì quelli sassi di pietra neri, tra l'altro, erano usati per macinare. L'abbiamo visto ieri nel museo, era da due piani, era più alto e dopo era stata distrutta, quelli sono i resti soltanto, hanno restaurato i resti. Qua era il trono, qui era da due piani. Guarda, hanno già tanti sottoletti. Allora, la scala è per il secondo piano, perché il secondo piano era la cucina, erano le stanze per dormire, eccetera. Qui era la parte ufficiale. Nell'altra parte che è coperta adesso erano i magazzini del palazzo. E qua era l'archivio. Il capo dell'Europa o il capo del club dell'Europa. Qui è l'unica vinta il palazzo. Ma qui, questa è Malta, diciamo che è stata facoltata. Non è che premia granché, penso. E' solo per dare la forma al muro originario, non è che ci sia un po' di un altro leggero. Era originario. Per ricostruire. Allora, gli ultimi scavi, Sono adesso qui, l'anno trovato un altro leggero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.